L'Aquila oggi è una città conservata nella sua essenza e nel suo aspetto originario, ma è sicura nei suoi palazzi, nelle sue case, ci si augura presto anche nelle sue scuole cittadine che ancora non sono ricostruite. Il centro storico dell'Aquila verrà restituito ai suoi abitanti con palazzi che in alcuni casi avranno livelli di sicurezza pari al 100%. È quanto si vede analizzando alcuni dati dell'USDRA relativamente ad aggregati, i più importanti per dimensioni e contributi, riconsegnati o da riconsegnare a brevissimo giro ai proprietari. Si tratta ovviamente di ricostruzione privata perché quella pubblica, purtroppo, come è noto, è in alto mare. Con le schede parametriche oggi si può dire innanzitutto con esattezza quant'era sismicamente sicuro un palazzo prima del sisma e quanto lo è oggi. La norma della ricostruzione, vale la pena ricordarlo, dice che il livello di sicurezza deve essere di almeno 0,6, cioè il 60%, e la valutazione si fa per singole unità strutturali all'interno di un aggregato. Il consorzio Altomac, ad esempio, che è uno dei più importanti nel corso stretto, di fronte al palazzo a rischio del consorzio Filomosi-Guelfi, ha 5 unità strutturali. Nel presisma alcune unità avevano un livello di sicurezza pari a 0,3 o 0,4. Nel dopo sisma le unità hanno raggiunto 0,89, 0,91, 0,63, 0,96 e 0,71. Qui i lavori per oltre 3 milioni e mezzo di euro sono al 95%. Un altro caso importante è un aggregato ultimato, questo, che si trova a San Bernardino. Un'unica unità strutturale è del consorzio San Giovanni da Capestrano. Questo è passato da 0,05, dunque molto insicuro, a 0,6, raggiungendo così la soglia di sicurezza. E ancora in Via Castello, nel consorzio La Castelletta, dove i lavori sono al 53%, 6 unità strutturali. Qui si è passati da alcune unità, che avevano livello 0 addirittura, a 0,6 o 0,7 in alcuni casi. Aggregato questo, che ha avuto 9 milioni di contributo. Un altro significativo è quello del consorzio De Marchis-Le Cancelle, che ha avuto un contributo di 8 milioni di euro. Qui i lavori sono quasi ultimati. Nelle 6 unità si è passati da livelli di 0,11 o 0,29 a 0,6, 0,99 e in un caso a 1, quindi al 100% di sicurezza, dato che si rileva anche in altri stabili del centro. In questo caso, prima del sisma, il livello era 0 e la parte strutturale considerata era crollata. Oggi c'è anche WebGIS, un'applicazione per il centro sulle classi di vulnerabilità sismica degli edifici. Qui in città, dice Salvo Provenzano, titolare dell'USDRA, c'è la prima mappatura di vulnerabilità sismica a scala cittadina. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e gli enti di ricerca usano l'Aquila come modello anche per tarare il sisma bonus e le tecnologie più moderne di restauro e ricostruzione. Anche le OTA è venuto per questo, anche i funzionari della Banca Mondiale e sia il governo romeno che quello russo hanno invitato l'USDRA perché hanno un piano di riduzione del rischio sismico. Con molta fatica, in definitiva, dopo dieci anni si è riuscita a far riconoscere alla comunità scientifica che il modello L'Aquila sta funzionando.